Ritorno in serie di Amaro per la Gelbison. All'esordio in campionato la squadra cilentana incappe in una bruciante sconfitta sul campo del team Altamura, che capitalizza al massimo il buon primo tempo, mettendo a segno due reti decisive per il successo. Di contro alla Gelbison non basta una buona ripresa. Nonostante trovi anche la rete, non riesce ad equilibrare il punteggio e si vede costretta a tornare a casa a mani vuote. L'Altamura parte con il piede sull'acceleratore e al minuto 18 lo iodice con un tiro cross riesce a sbloccare il risultato. La Gelbison accusa il colpo e non riesce a reagire, tanto che al quarantesimo l'Attanzio realizza il raddoppio mandando la sfera all'incrocio. Nella ripresa si vede una Gelbison più determinata e al quarto d'ora, con Camilleri, la squadra accorcia le distanze. La rete galvanizza i cilentani che provano a spingere per trovare il pareggio, ma il risultato non muta e il team Altamura si aggiudica il match portando a casa i tre punti. La Gelbison resta a mani vuote e spera di sbloccarsi domenica nel turno interno al Guariglia di Agropoli con il Casarano battuto in casa da Rotonda.